Allora a tutti ragazzi, benvenuti in prossimi video Bisogna usare lui qui come accente RockerX10 Yuppiii Ma stai a fare per scoprire Allora, quella che sta saltando sui letti sono io E quella che mi fa prima notte Allora, yowoo Non sono nata a sto map A parte di altro Ubi Ah boh Comunque Ehm, ci inizia Ehm, iniziamo Con Non so, dai Con il rosso, facciamo così Dai iniziamo con il rosso Scusa Scusa Così forse va bene L'hai trovata? Oh Ah, forse era fatto proprio per non riandare indietro Oh, stile Molto Questo parkour è monstro Eh, no Ah, no Sì, sì, sono lì Sono lì, sono lì La Cos'è? Una someraldo Perché sono fuori ora, va qua Vabbè, tu restai là, non ti ho finito Anzi no, tu ti devi arrivare No No E ora cosa ho visto? Oh Oh Ah che carino No, non ti tieni tutti tu Dove ne siamo? Ehm, arancio Pronto? Tre Due Due Uno Via Un survival Un survival Un zucchero Un zucchero Spade di diamante Un quadro 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 no! oro! 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 oro vabbè posso in questo buco guarda in questo buco mettiamo tutte le cose ok? ok la giustelo la giusta che sto facendo? bravo a quanto siamo? due come fai? hai bisogno di due vorrei provare il quadro? metterla qua! il quadro? metti tutto bene ok io prendo un po' di materiali io faccio la casa tempo record bello attorno favorello bravo ho trovato il redstone, mi servirà molto ma perché ti sei portato qua? io non me ne sono portato è una io faccio ho giusto e poi mi faccio e poi mi faccio vediamo allora siccome non c'è scritto la dimensione io anche potremmo farla ah! ah! infatti non c'è scritto la dimensione allora io la faccio e lì non c'è e poi non c'è un po' di materiali non c'è vabbè io questa mappa è quanto è possibile dove potrei essere capito che ci sono io prendo sono belle bene ora mi interessa un inferno e due 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 e ora allora ti faccio hai fatto una fornace? cosa? una fornace la fornace la fornace andiamo 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 ehm la fornace allora si inizia da guicardo ora hai preso il buco vi ho prendere con l'oro perchè è il buco della cotta allora ora sto a tutti aspetta dove sto oi ti ma l'altro non c'è un diamante non so ma non c'è un piccolo intanto oi ti prendi prendi la cotta qua per buone o il ferro a quanto siamo? per ora 5 minuti ok 5 minuti io allora io butto nell'acqua perchè c'è quello di farlo oh ah la cazzo l'ho fatta bella di pazienza no lo sai perchè lo sai perchè c'è quei buchi la esterni ok ora c'è la caffing e la cotta qua orna un gafantosiano 6 minuti allora da cazzo l'ho può essere tutto e da cazzo l'ho finito cazzo l'ho finito no da cazzo l'ho finito bella 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 no 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 no